Ciao, sono Matteo di Fotodigital. Siamo ufficialmente operativi anche con la stampa 3D. Ancora qualche piccola miglioria e qualche test e poi saremo disponibili per stampare tutti i vostri modelli, prototipi o quello che volete portarci da realizzare in modo davvero unico e originale. Ti aspetto da Fotodigital con la stampa 3D. Grazie a tutti.